Cibustec 2023 incontriamo una delle eccellenze italiane, la PE Labelers, un'azienda che opera sul nostro territorio ma non solo. Ne parliamo con Cristiana Rondini, Marketing Director di questa azienda. Cristiana, di cosa vi occupate? PE Labelers è da quasi 50 anni che si occupa di etichettatura, quindi è l'azienda leader al mondo nella creazione, nel design e nella costruzione di macchine etichettatrici automatiche, ormai super ergonomiche, con un livello di innovazione a bordo che ci differenzia un po' da tutti i nostri competitor, da tutti i vari top player verso il mercato, quindi questo è il nostro DNA, etichettatura votata all'innovazione ed è grazie a questo che riusciamo a creare delle macchine, delle soluzioni di etichettatura che sono assolutamente flessibili, modulari, che vanno incontro alle esigenze di produzione di tantissimi clienti anche diversi come target, quindi dalle multinazionali ai costruttori, alle aziende anche di medie dimensioni, offrendo loro tutta una serie di soluzioni di etichettatura che possano essere risolutive rispetto alle loro esigenze di produzione. Certo, e fra le tante proposte che avete qual è la punta di diamante, la chicca, il gioiellino su quale puntate per questa fiera? Beh, allora, assist perfetto perché in questa fiera siamo felicissimi di poter presentare finalmente a casa nostra, quindi qui al Cibustec 2023, la nuova macchina Skyline che è l'ultima nata in casa PE, è una macchina lineare adesiva e ne siamo veramente orgogliosi perché abbiamo appena vinto l'Innovation Award del Cibustec, questa è una macchina che è stata presentata in anteprima mondiale al PAC Expo di Las Vegas e poi in anteprima europea al PPMA di Birmingham e ha avuto da subito un successo strepitoso e effettivamente ha un, se parliamo di gioiellini, come dicevi, è una macchina che ha a bordo talmente tante peculiarità innovative che davvero la differenziano in modo significativo rispetto a tutte le altre soluzioni lineari presenti oggi sul mercato, basti vedere solamente il connubio tra compattezza e eleganza di design ed ergonomia pura nell'ottica di facilitare al massimo il lavoro dell'operatore. Benissimo, e allora buon lavoro, buona presentazione e il mercato poi da adesso risultati. Grazie. Grazie a voi.